Ciao, sono Eleonora Bosco e sono la responsabile dell'unità Processi e Strumenti della Direzione Ingegneria e Costruzioni di SNAM. Sono stata assunta in SNAM in qualità di ingegnere ambientale. Il primo cambiamento che ho affrontato nel corso della mia carriera è stato quello di diventare capocentro presso la direzione gestione a rete, ruolo che ho ricoperto come seconda donna nella storia di SNAM. Ho ricoperto nel corso del tempo vari ruoli e la società ha sempre fatto in modo che io fossi pronta ad affrontare ogni volta nuove sfide. In SNAM ho avuto l'opportunità di crescere e di formarmi grazie al contributo dell'azienda, fino a raggiungere il ruolo che attualmente ricopro che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche. SNAM nel corso del tempo si è sempre più impegnata per permettere un aumento delle donne che ricoprono ruoli apicali all'interno dell'azienda e questo lo si vede anche nel numero sempre maggiore di donne neoassunte dall'azienda. Questo impegno si realizza attraverso iniziative come questa e altre iniziative portate avanti dal gruppo STEM di cui faccio parte. Questo è il nostro impegno, valorizzare il talento al femminile e fare in modo che l'ingegno non abbia genere.